Sono insieme al 2021, ormai il Natale alle donne e anche l'anno che vengono nel 2022. Il sindaco di tutti gli auguri di buoni fiesti per passare in serenità. Non siete a pensare molto al coronavirus, siete attenti, però vaccinate e fare tutti gli strumenti che fanno fatti, ma viviamo il prossimo anno con più serenità e anche con più ottimismo, perché oggi sarà sicuro un anno migliore nel 2021. Auguri e ad oggi buon Natale e buoni principi.